24 agosto siamo a torre del greco a via cuba san pietro vicino via calastro dove abbiamo rivigliato il fatto dello scarico delle fogne e dicono che ci sono le bombe di sollevamento e guardate qua signori miei che schifo guardate quest'area come è abbandonata come vedete è uno schifo questo c'è guardate che schifo guardate le condizioni igienico sanitarie e siamo a torre del greco qua addirittura quando dicono che l'inverno che ci sono le piogge pesanti dicono che i cittadini che si mischia tutto col sangere d'acqua ripeto siamo a torre del greco a via cuba san pietro e via calastro parlano le immagini e guardate c'è tutta la raccolta d'acqua in questo piccolo buco mamma mia che schifo le immagini parlano chiaro e con questo ho finito ciao Grazie.